Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovissimo video Oggi siamo qui insieme a Giofrost per fare questa nuova mappa creativa In pratica tu devi scappare da un camion che ti può uccidere Allora, metti pronto, facciamo privata e andiamo in game Come no? Vai, metti pronto, ecco vai, andiamo Ok, eccoci ragazzi, come potete vedere io sono la macchina Adesso c'è Faste che mi deve acchiappare con il camion Ok Sarà molto dura Molto complicato, sì Fortunato Eh male, se cadi poi nell'acqua ovviamente muori Cioè se tu cadi con la macchina muori, se tu cadi con il camion no Esatto, un po' che valore sì è così, è così, è così Ok Dai, ora sul camion Ecco, c'ho la macchina della stagione 4, capitolo 4 Quindi, va lenta, cioè c'ho la macchina Nooo, bello, è esploso ragazzi Cioè, brutto, non bello, brutto Sì è così, ragazzi Mi c'è, mi c'è incastrata addosso al palo Eh male, male male Ahi è notte Io certe volte con il camion Sono un luco non Io con il camion colpisco Giofrost, però non muore Pure adesso io l'ho colpito, no però non sei morto Eh, io però non l'ho visto, è un bug visivo quello che hai C'era solo il camion questo bug Mamma mia, messo proprio dietro Questa l'hai sentita però, te botta Nooo, non l'ho visto proprio niente Cioè... Vabbè, vabbè, ci stava come partita, visto che era il buio, magari si veniva la paura No, stai un cu*****o Vabbè, spero Semi giorno, semi, semi giorno Bena? Sali, ma e vai e sali Adesso faccio una battutona Ti scommetti? Vai Qual è il miglior wifi per giocare alle mappe tipo con le macchine? Non lo so Il miglior modem wifi Non lo sai? No Info strada Politeu, politeu È divertente Giofrost, più di solo su Eh sì, però Sono divertente Ma perché? Perché? Eh, però qua te potevi fermare Ma hai visto che sei la cosata, eh? Ah, ancora con sta macchina schifosa No, ragazzi Eeeh Non me ne ero accorto dell'acqua che era salita, quindi Allora Allora Ho due minuti e dieci secondi per sopravvivere Da al cadere di Giofrost Ma non ce la farai? Fortunato E' quando fai il ritro bacio Tuuuu 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 Vado qua Eeeh Allora Non ce la faccia Porca miseria Mi ha fatto una solittata Il camion 30 secondi 71 Ecco 30 secondi Tu hai le calcangia, no? Mi hai fatto volare, no? Esplodi Oh, ma mi hai spinto contro il muro, te Ma come hai fatto? Dai ragazzi Contro il nove C'ha 5 4 3 3 3 3 3 Vittoria Uhu Uhu Da prima Weplash 1 Trax 9 9-1 Per i Pedicamion Adesso Toccateggio Frost E' l'ora Di vincere No, non fanno brava questa strada Perché io so Dovai Perché la macchina mi ha saltato così tanto in alto? No, nell'acqua Se sai la strada che faccio In realtà Dovresti essere abbastanza avvantaggiato Eh, ora non la so la strada che fai, mi dico 1,54 2 Ma? Ma? No, questo lo dovete vedere, raga Qua l'ho piato Si è andata in acqua Si è andata in acqua Si, ma qua l'ho piato Qua l'ho piato No, anche ci sono molto fortunato Cioè, avrei dovuto vincere io Perché l'ho preso prima Cioè, l'ho preso prima Lato ho preso la grande Lato ho preso la grande Lato ho preso la grande Come io prima Ho capito Tu partite qua Tu partite là Tu partite là Dai 20 secondi, raga No, ce l'hai fatto Ah, che bello No Mi sbaglio Mi sbaglio Mi sbaglio Mi sbaglio Mi sbaglio Mi sbaglio il nome Eh, per la scala Saltino alla fine Saltino alla fine Muoio Oddio Che fortuna Vorrei dire Che fortuna Ok, complimenti a Geoffrost che ha detto Grazie, 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 grazie Ok, ragazzi La mappa l'abbiamo vista È bella Oddio, come si fa? Oddio Ok Questo è il codice isola E noi ragazzi ci sentiamo la prossima volta Ciao ragazzi Ciao bella Ciao bella